Si è concluso positivamente il debutto della Mechanic System in questa Serie A Beretta, primo incontro giocato in casa, tra l'altro ci siamo lasciati giusto il 7 marzo con Mechanic System da Erzoleno e da qui abbiamo ripreso, però abbiamo ripreso con una leva completamente differente, grande fisicità e grande anche preparazione atletica. Penso nel commento che abbiamo fatto assieme a Andrea Reggelin ha stupito veramente la grande prestazione atletica di Arasai Durand, ma con Alessandro Cavallaro facciamo il punto di questa vittoria e tocchiamo i punti salienti di questi primi punti. Sì, bene, come si suol dire buona la prima, andiamo avanti. Sono molto contento perché ho visto una squadra molto tonica, dicevo, parlavo con le ragazze sedute dietro di me in panchina, abbiamo spinto per 20 minuti e questo non è da poco. Possiamo fare ancora di più, abbiamo i cambi, aspettiamo il nostro centrale Carlotta Poderi, ma in questo momento le giocatrici che giocano veramente non hanno fatto sentire la mancanza. Da un punto di vista tecnico dobbiamo trovare ancora delle collaborazioni e soprattutto anche in difesa, però non mi posso lamentare anche perché le ragazze si aiutano, si parlano e questo è un buon punto di inizio. Abbiamo anche sottolineato nel corso della telecronaca come la squadra si è stata notevolmente ringiovanita e proprio dalle giovani di Uniones c'è stata grande soddisfazione. Sì, abbiamo avuto, sì, avendo fatto per una vita le giovanili, diciamo che so un po' come vengono trattate le giovani giocatrici. La nostra Noemi è una nuova leva, ha fatto quei suoi cinque minuti in Serie A e ha fatto bene. Poi siamo stati così tanto bravi in estate a trovare, diciamo, un'altra mancina, Arianna Brunetti, proveniente da Ferrara, anche lei un altro punto di forza e la piccola 19enne Leonora Colloredo. A parte le due comunità norvegesi, quello è un discorso a parte, sappiamo la caratura e l'importanza della pallamano norvegese in Europa. Dunque questa Mechanic System sta prendendo piede, prima chiaramente partita non può fare testo ma comunque la condizione atletica c'è e questo naturalmente è un buon gradino di partenza per quello che può essere un gran campionato. Sì, in effetti è vero perché se ci sono le gambe c'è anche la testa e abbiamo visto oggi che con la testa abbiamo tenuto veramente tanto e sono contento anche delle innumerevoli diciamo combinazioni che possiamo avere sia in attacco che in difesa e ne vedremo delle belle anche perché possiamo avere in difesa, possiamo creare tante situazioni di difficoltà per le altre squadre. Si è concluso Mechanic System Oderzo Leno nella prima giornata della Serie A Beretta, ci soffermiamo e commentiamo questo incontro con il coach Giovanni Bravi del Leno, questo suo commento per questo incontro che vi ha visto in difficoltà per buona parte dell'incontro? Sì, guardi, sicuramente venire a giocare a Oderzo è sempre complicato perché a fronte di una squadra organizzata, una squadra che ha già una costituzione importante che è stata rafforzata nel corso delle permanenze in A1 sicuramente. In più noi siamo arrivati probabilmente un po' confusi, io sono consapevole che la mia squadra è ancora in rodaggio e sicuramente deve crescere, si deve consolidare soprattutto le grandi componenti giovanili. Lavoreremo per migliorare la percentuale di tiro perché sicuramente più gol in momenti, soprattutto all'inizio, ci avrebbero fatto comodo, però sono d'accordo con la sua affermazione. Noi ci siamo soffermati spesso nella telecronaca come il Leno avesse sfruttato delle buone occasioni ma poi al momento del tiro avesse o sbagliato il riquadro della porta oppure il pallone fosse uscito, cioè proprio manca forse un allenamento, siamo all'inizio chiaramente del campionato, sono cose che sicuramente lei nel corso delle prossime giornate saprà rettificare alle ragazze e soprattutto portarle ad alte percentuali di conclusione. Sì, lavoreremo sul carattere, non voglio trovare scuse per le ragazze perché quando si è sui sei metri chiaramente uno bisogna fare gol, sappiamo tutti che un risultato diverso dalla segnatura porta un contropiede a prima fase, seconda fase, quindi le ragazze dovranno essere più aggressive mentalmente quando si arriva davanti al portiere per voler fare il risultato, questo è fondamentale per la massima serie, quindi lavoreremo prima mentalmente e poi anche sul tiro in sé dal punto di vista tecnico. Non voglio dare giustificazione alla sua squadra, però la differenza fisica è stata una componente determinante in questo incontro. Sicuramente Oderso ha delle ragazze dotate fisicamente, è stata costruita una squadra corta, non la trovo una scusa per le mie ragazze perché sicuramente possiamo puntare sulla velocità, quindi ognuno usa le armi che ha a disposizione e perciò lavoreremo dove già ho in mente per cercare di costruire una squadra più affilata dal punto di vista offensivo. Perfetto, io ringrazio Giovanni Bravi, buon rientro e naturalmente ci vedremo al momento dell'incontro di ritorno, la prima giornata di ritorno per questa serie a Berretta. Grazie e buona serata a lei. Grazie e buona serata anche a voi.